Ho preso B che serve per il sistema nervoso. Io ho dato il primo che mi ha detto che l'anno scorso mi sembra che sia scritto A, B, C, così. Può essere. Tu c'è il cane, la foto di un cane araccione. Cos'è la canelita? Mi sono il telefono quando ero a casa. Perché specifici per il sistema nervoso c'è il Stimul Force. E sono pastigliette. Però a questi qui se ne può dare un ottavo. Sono apposta per il sistema nervoso. E gocce. E gocce sì, dovrebbe essere qui.